Ciao, sono Simone da Venusa. Volevo chiedere perché il costo della bolletta a volte risulta essere superiore a quello effettivo. Un saluto. Non tutte le fatture riportano un consumo effettivo di acqua. In assenza di letture e autoletture, le fatture vengono emesse sulla base dei consumi storici. Si consiglia quindi di dare sempre la lettura nel periodo indicato sulla fattura, oppure troverete le informazioni sul sito di Acquedotto Lucana.